Cosa succede se un boss della malavita... Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss scava fosse. Decide di cambiarsi la faccia. Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante. Detta così, sembrerebbe qualcosa di illegale. E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea. Questa sì. Vorrai i chirurghi più qualificati. Benvenuti. Eccoli qua i miei machi del bisturi. Io direi di incidere qui. Ah! Ma il paziente è sveglio. Non so io, mi hai preso la mano. Ah, scusa. Ma anche i chirurghi più bravi. Perfetto. Possono sbagliare. È identico. Sono tale e quale a Leonardo. Leonardo. Di Caprio. Leonardo Di Caprio. Di Caprio. Con la O. Ma che cazzo avete combinato? E adesso? È meglio darsela a gambe. Scappiamo, dai, corri. Sti cazzo di vende. Che è successo? Peppino Di Capri. Ma qua Peppino e Peppini sono composti. Ce la possiamo fare. Faremo scinghiala. E tu con questi che ci fai? Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri. Non mi piace che la gente mi guardino. Vuoi favorì? Vada per la forchettata. Forsecchiottore mio. Adesso sono io, Peppino Di Capri. Ti-fi-ce-i-menti. Natale col boss. Dal 16 dicembre. Scappate al cinema. Tutto bene in par de palle.